Quando siamo in grembo siamo già umani o ancora animali? Dove parte la nostra umanità? C'è un punto di congiunzione? Un mammifero dentro un grembo e un mammifero umano dentro un grembo? La nostra umanità comincia con il primo bacio della madre oppure con l'ambiente, l'ospedale in cui ci troviamo? Il spettatore vede questo monolite, questo ventre, questo grembo in cui ci sono una dualità di canti, un canto delle creature esterni, le grandi creature, sole, luna, erba, morte e il canto interno in cui con decine e decine diversi animali fantastici si va ad entrare dentro come un subconscio. Grazie Grazie